La seconda. Grazie a tutti. 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 Buona, buona, buona. Buona, 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 buona. Buona, buona, buona. Buona, buona, buona. Buona, 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 buona. Buona, buona, buona. Buona, 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 buona. Buona, 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 buona. Buona, 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 buona. Buona, 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 buona. Buona, buona, buona. Buona, 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 buona. Buona, buona, buona. Grazie! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Apeca! 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 Oh, andai! Passa! Apeca! 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti.